Buonasera tzaddikim, maur chashem, abbiamo passato Pesach, la grande festa di Pesach, la grande luce di Pesach. Siamo andando attraverso la festa di Shavuot, abbiamo già detto c'è una grande differenza, c'è una differenza sosteniale tra Pesach e Shavuot. Pesach rappresenta l'amore che il creatore ha attraverso il suo popolo, salvandoci il suo popolo senza condizioni, senza preparazioni, senza niente. Questo rappresenta Pesach. Come un padre che è pronto a dare e fare tutto per il suo figlio, anche se il suo figlio forse non lo merita. E questa era Pesach, questa era l'Ela Seder, questa è l'apertura del mare e si può allungare, Bauch Hashem, tanto su questi concepti. Però adesso andiamo attraverso la festa di Shavuot. Shavuot è molto più profondo e molto più alto di Pesach. Perché Pesach parliamo di materialità. Un padre che ama il suo figlio lo può dare tutto il materialità nel mondo e la sua capacità di dare, anche se il suo figlio non lo meriti. Prendi figlio mio, prendi casa, soldi, salute, tutto, macchina, tutto, vai, famiglia, tutto ti do. Questo è Pesach. Però Shavuot non è materialità. Shavuot è spiritualità, Shavuot è conoscenza, Shavuot è la Torah. Questo non si può inserire. Non è solo di una casa che tu puoi dare a qualcuno, salute, è una cosa materiale. Parliamo di cosa spirituale. Parliamo di conoscenza. Questo c'è bisogno di una preparazione. E per questo noi adesso dobbiamo iniziare a lavorare. Che così, la Kadosh Baruch Hu ha-shavuot possa dare a ogni uno di noi la Torah. E beruch Hashem che bello. E in realtà la trasformazione. Se noi vediamo bene, a Pesach abbiamo fatto un sacrificio. Qual è il sacrificio che si fa? Abbiamo il Omer, il sacrificio dell'Omer, il primo sacrificio il giorno dopo Pesach. Il sacrificio che simbola l'inizio del conteggio dell'Omer. E là il sacrificio viene fatto da Orzo. Sa di chi? Forse oggi Orzo è considerato un grande prezioso. Però antiguamente Orzo era cibo di animali. Solo animali mangiavano Orzo. L'uomo, uno che ha soldi, mangiava di grano. Un pane di grano viene considerato un pane molto superiore all'Omer. Noi, il giorno dopo Pesach, abbiamo fatto un sacrificio di Orzo. E a Shavuot faremo un altro sacrificio. Invece di un pane di Orzo sarà un pane di grano. Un'altra parola della trasformazione. Tra Pesach e Shavuot, che in Pesach si mangia Orzo, come un animale. Un animale che non sa niente, che è ignorante, che non capisce, che non ha intelligenza. Questo è Pesach. Hashem lo ha aiutato, Hashem lo ha salvato. Però a Shavuot, per arrivare e ricevere il regalo che Hashem vuole dare, dobbiamo essere umani. E per questo, in questa epoca, tra Pesach e Shavuot si studia Masseche Tavot. Si studia le libri che parla dell'etico ebraico. In Masseche Tavot non abbiamo nessuna mitzvah. Non c'è scritto mangiare kasher, non c'è scritto fare il Shabbat. Niente di tutto questo. Le obblighi sono le obblighi per prepararti, per essere pronto, riceve il relatore. Ebbene, la parasha scorza. Abbiamo letto parashat Ahremot. Anche questo è interessante. Ahremot parla di Kipur, il lavoro del Kohen Gadol, che entrava dentro il Santo del Santo. La parentesi è una cosa molto interessante. E il Kohen, noi sappiamo che il Kohen, il Kohen semplice, lui ha quattro vestiti. Vestiti bianchi. Invece il Kohen Gadol, lui ha otto vestiti. Più le quattro vestiti che mette il Kohen semplice, lui aggiunge quattro vestiti. Di oro, con dodici piedi preziosi. E mai se le vestiti del Kohen Gadol erano così belle? Vero? Molto interessante che il Kohen Gadol è il giorno più santo per il popolo ebraico, è nel posto più santo per il popolo ebraico, è nel kodesh a kodashim, è nel santo del santo, è l'uomo più santo, il Kohen Gadol entra solo con vestiti bianchi. Togli le sue vestiti di oro e mette vestiti bianchi. È come se fosse un uomo semplice. Ma io sai perché? Perché il Kohen Gadol è nel giorno più importante, invece di entrare con tutta la sua splendore, con tutta la sua bellezza, ma frente al creatore entra con le sue vestiti semplice? Ma ci sono due o tre ragioni. La prima ragione è che attraverso il creatore c'è solo umiltà. non c'è attraverso il creatore status. Paragonata al creatore non c'è nessuna differenza se tu sei un Kohen Gadol, se tu sei un capo rabbino, se tu sei un uomo semplice, se tu sei un uomo mai sia cattivo, paragonato al creatore, la distanza tra il hacham al creatore, o tra il cattivo al creatore, tra l'uomo semplice e il creatore, è uguale. Tra parentesi questo un po' fa riflettere. Voglio dire, attraverso il creatore la distanza è uguale. Sì, sì, ci vuole tutti i beni. Perché per lui noi siamo così piccoli, non importa quanto bene o male siamo. E per questo quando il Kohen Gadol entra, va dentro al Kodesh Akodashim, va con bianco, con umiltà. Però c'è un altro ragione. Noi sappiamo che il Kohen Gadol, in Yom Kippur, faceva tanto lavoro e sacrificio, tutti quanti. Le maestri dicono che c'è un concepto molto importante, che è l'advocato. Quello che deve salvare, non può essere anche il prosecutore. Quando uno va attraverso il giudizio, e deve essere giudicato, affronte il giudice, ci sono due parti. ci sta l'advocato che cerca a salvarti, e ci sta il prosecutore, che ti cerca a condannare, spiegare perché tu meriti di essere condannato. Dicono le maestri, un prosecutore non può essere un advocato, e anche non dice aversa, tu devi scegliere. Le maestri, l'oro rappresenta il vitello d'oro, e l'oro è un prosecutore, rappresenta il ricordo delle peccati del popolo ebraico. Dicono le maestri, il coed gadol, non può entrare nel santo del santo, con un vestito che fa ricordare il vitello d'oro, e per questo per forza deve entrare con un vestito bianco. Adesso abbiamo un altro domande. Noi sappiamo che il coed gadol, fa tante lavorazioni di Kipur, fa sacrifici, fa l'incenso, fa tantissime cose. Perché quando fa le altre lavorazioni, come le sacrifici che vengono fatte fuori del santo del santo, perché là, sì, lui mette vestiti di oro? Se noi diciamo che il vestito d'oro fa ricordare il vitello d'oro, quindi tutto il giorno non deve mettere oro, tutto il giorno deve andare con bianco, perché tutto il giorno di Kipur, è il ruolo del coed gadol che cerca di spiare le trasgressioni del suo popolo attraverso il creatore, quindi perché fuori di oro, via dentro bianco, fuori si può far ricordare il vitello d'oro. E qui sa di chi? Quanto c'è un concepto importante. Diano le maestre, che un ebreo ha responsabilità attraverso il suo fratello, un ebreo ha responsabilità attraverso la sua famiglia, un ebreo ha responsabilità attraverso qualsiasi altro ebreo, e quando c'è un ebreo che sta andando nella strada sbagliato, tu, io, ognuno di noi, hai l'obbligo a fare tutto che è nel suo podere, per aiutare questo uomo ad andare nella strada giusta. Se lo dobbiamo rimpovrare, lo rimpoveremo, se lo dobbiamo spiegare, lo spiegheremo, se lo dobbiamo spiegare, quando lo che lui sbaglia, lo faremo, perché noi abbiamo una responsabilità. È vero, il coen gadol quando sta nel santo santo non mette oro, perché non vuole attraverso il creatore far ricordare il vitello d'oro. Quando lui sta fuori facendo le sacrifici, chi lo vede? Il popolo vede il coen gadol? Là lui mette oro. Io ti voglio far ricordare le tue trascrizioni. Io ti voglio rimprovare. Io ti voglio fare vedere che tu stai sbagliando. Però tzadikim, tu puoi rimprovare il tuo amico solo se da fuori è oro e da dentro è bianco. Che voglio dire? Voglio dire, il stesso coen gadol che diceva al suo amico, amico mio, non è giusto. Tu devi mangiare cascero. Perché mangiare un cascero? Tu sai che ha scelto? Mi ha detto che si deve mangiare cascero. Amico mio, perché non fai shabbat? Tu sai che il creatore ha creato il mondo in sei giorni e il settimo giorno ha riposato? E tu vuole che tu fai shabbat? Amico mio, perché non metti tefilini? Tu sai che ha scelto? Tu vuole che metti tefilini? Tu sai che lo che tu fai non va bene? Fratello mio, perché l'altra settimana hai fatto una bugia? Perché due settimane fa ti sei comportato così male? Perché quattro settimane fa hai ingannato quello ebreo e hai fatto una cosa che non era giusto? Questo è l'obbligo tuo. Però, quando tu preghi al creatore, il tuo cuore deve essere bianco. Ossia, attraverso dell'altro lo puoi far vedere che lui sbaglia. Però attraverso il creatore tutti sono giusti. E questa è la forza del Coingadone. Quando lui parla con te, mette l'oro! Non va bene! Cambia il tuo comportamento! Quando lui entra dentro a fare che pregare per te che lui sta facendo là, là lui non fa ricordare nessun fario. Là, tu sei l'uomo più santo del mondo e non importa quanto vettelo di oro che tu hai fatto. Questo è il concepto. Chi può rimprovare qualcuno quello che davvero capisce che l'altro è bianco? Adesso, come si capisce che l'altro è bianco? Quando io a volte vedo che lui non è così bianco? Questo c'è a approfondire. Sì, la parashat nostra, il parashat Chidoshima, è una bellissima parashat. Nel primo, due versetti sono versetti che si può approfondire tantissimo. E l'Eterno parlò a Moshe dicendo così, parla a tutta la comunità dei figli di Israele e di loro, sentite questo, dovete essere santi perché io, l'Eterno, il vostro Signore sono santo. Incredibile. Questo fa parte delle 613 e mezzo. Quanto un uomo, o quanto volte sentiamo un uomo dire io non sono santo, che vuoi da me? Che vuol dire io non sono santo? Deve essere santo. La tua dice che deve essere santo. Quante volte dice a un uomo, vedi, tu sai che devi fare, no, io non sono un angelo, io non sono santo. Che vuol dire tu non sei santo? Il creatore dice che tu devi essere santo. Perché devi essere santo? Perché il vostro Signore, io, così dice il creatore, sono santo. Senti che vuol dire essere santo? Qual è il concepcio di essere santo? Io dico che qualcuno è santo. Che vuol dire? Maissia, non dobbiamo sbagliare. Ci sono altre religioni dove la parola è santo. Vuol dire un'altra cosa, noi nell'ebraismo non abbiamo santo in questa metafore come loro fanno. Non ci sono luce che scende dal cielo e una corona dentro l'osso. Questo non è santo. Questo quando vedo un film può succedere. Che vuol dire essere santo? Vediamo. Dice Rashi santo adesso viceversa questo voglio dire essere santi. Interessante. Non manca poco per essere santo. Non c'è bisogno così tanto. Solo astenondici di peccati essere santo. voglio dire la sua perspetta e la sua perspetta. Nemmai si portano un metaforo per capire questa storia. C'era un uomo molto ricco. Storia vera. Molto molto ricco. e lui però come dicono italiani a cagno non fa uscire i soldi della sua mano. Ha tanta soldi per dare donazione dare aiutare e questo molto 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 difficile. Un giorno viene un povero bussa al porta di questo ricco e il ricco lo apre la porta e dice come ti posso aiutare? io sono povero non ho mangiato due giorni non ho fatto entrare niente dentro la bocca mia mi puoi per favore dare qualcosa per mangiare? Quello ricco dice qui non è un posto dove si danno donazioni qui non è un posto dove si danno cibo però si vuoi lui lo sta aiutando là c'è un posto quando si va là c'è un uomo che lui sempre dà cibo alle poveri quello povero felice questo ricco non dà niente però almeno troverà qualcuno che lo darà e prima che questo povero va via il ricco dice sai che aspetta aspetta ti do qualcosa io il ricco è rimasto un pezzo di pesce di ieri dentro del frigorifico ha detto questo pezzo di pesce di ieri salato dentro del frigorifico lo darò a questo povero adesso potete immaginare che succede con un povero che due giorni non ha mangiato che mangia un pesce che non è fresco tutto salato il povero mette questo pesce e inizia ad avere una sete perché lui due giorni non l'ha bevuto va bene così così lui si sveglia perde la conoscenza sulla terra subito il ricco chiama l'ambulanza e l'ambulanza porta questo povero all'ospital dopo una ora questo ricco dice a suo moglie moglie mio io stasera non posso essere con te devo andare a fare una mitzvah molto grande lui è uscito per fare quale mitzvah per ospitare il malato e è andato all'ospitale a vedere questo uomo povero stava là con il povero ha seduto un'ora due ore ritorna a casa e il giorno dopo un'altra moglie dice a suo moglie moglie mio io devo fare una grande mitzvah stasera dice che succede qualcuno è morto chi è morto questo povero poveraccio due giorni non ha mangiato un pesce che era rotto salato è morto c'è un ambizzo che quando un uomo muore andare e seppelirlo lui va a seppelire questo morto e il giorno dopo un'altra volta dice a suo moglie moglie mio io oggi non posso essere a casa devo andare consolare la famiglia di questo povero che è morto quello ricco va a consolare la famiglia di questo povero che è morto e torna a casa dice moglie mia vedi che quanto il creatore è grande grazie a un pesce che era salato e un po' ruinato ho fatto quattro mitzvot uno ho chiamato un'ambulanza due sono andato a visitare questo povero all'ospitale tre sono andato a un funerale i quattro ho fatto la mitzvah di dare condolare a questa famiglia dire maestri questo voglio dire non essere santo questo voglio dire quando la perspetiva è sbagliata amico mio di che stai parlando se tu l'avevi dato un cibo normale quello sarebbe vivo e non avresti bisogno di fare la mitzvah di chiamare l'ambulanza né la mitzvah di andare all'ospitale né la mitzvah di andare alla sepulizzazione né la mitzvah di condolare la famiglia dice il Ramban questo voglio dire essere santo un ebreo può fare tutto la Torah e non essere santo un ebreo può mangiare casher può fare shabbat e può fare la nida e può fare tutto e non essere santo perché non manca la perspetiva non manca anche la verità che sta dietro di tutto di chi tutto la Torah tutti le 613 mitzvot furano dato per una cosa per fare da te un uomo meglio voglio dire che hai perso l'essenza delle mitzvot che stai facendo e questo dice il Ramban ovvio lo spiega in poche parole io ho allungato per cercare a spiegare il concetto questo voglio dire essere santo essere santo è vedere lo che ti sta addietro delle richieste della creatore e poi questa tutta questa parasha la parasha di Kedoshin che bellissima parasha 51 mitzvot quanto è 51 noi abbiamo 613 mitzvot abbiamo 51 mitzvot 15% casi 20% quanto è questo 10 10% 10% delle mitzvot in una parasha e tutti le mitzvot che si sono in questa parasha vengano spiegare questo concetto di essere santo voglio dire in altre parole se io voglio capire il Kebri di essere santo possiamo parlare ore deve andare mitzvot dopo mitzvot e spiegare quando sarà il tempo di fare il raccolto della vostra terra non dovrai completare il raccolto perché all'angolo del tuo campo non dovrai raccogliere perché qualcosa è per il pover un'altra volta gli fa capire il concepto l'uomo deve sempre pensare sull'altri si dopo che dice non robare non dire una bugia non gioare del nome mio del vano c'è un uomo anche questo fa parte di un essere santo lui aiuta il suo amico lo dà lo aiuto lo dà soldi lo dà cibo lo dà tutto però dopo dietro su spalla si lui è così 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 questo vuol dire che non hai capito niente tutti i soldi che tu dai a questo uomo non vale così tanto tutto l'aiuto che tu dai a questo non deve essere solo soldi può essere un esempio sì andare a parlare con qualcuno aiutare qualcuno a andare al dottore succede che aiuto qualcuno però dopo a dietro spalla parlo male su di lui questo è come dare il pesce rotto salato a un povero che bussa la porta e dopo essere felice che tu lo puoi aiutare questo dice il rabbaro di essere santo non odiare il tuo fratello nel cuore anche qui un'altra volta abbiamo della essenza dell'ebraismo tutta questa parasha è la essenza dell'ebraismo lotti come lotti tor quanto è difficile questo non odiare il tuo fratello questo uno non ti vendicherai del tuo fratello vendicare non si può è ancora più difficile non potrai avere rancore rancore sì a volte uno non si vendica però c'è rancore nel suo cuore io mi sento su di lui io c'ho un conto aperto tu non lo faccio niente però nel cuore lei non cuore le maestri questo vuole essere santo che d'usciti io che cadosh anni e qui però viene una cosa più strana che dice il creatore tu sai perché devi essere santo perché io sono santo grazie mille ovvio che tu sei santo tu sei il creatore qual è il paragone che vuol dire quando il creatore dice ah tu devi essere santo perché io sono santo sì bene qual è il paragone tra me e il creatore il creatore è sano per baruch Hashem perché dentro di te dobbiamo essere attenti come lo diciamo e dobbiamo essere attenti come capirlo per non vedere mai sia in l'eresia però dentro di te c'è un parte di me questo essere santo capire che dentro di te c'è un parte di me e questo è lo che nel Dio nemmai scrive e per questo tzadikim di solito parashat kedoshim cade in questa epoca tra Pesach e Shavuot perché il lavoro nostro è arrivare a Shavuot di essere santo capire lo che ci sta dietro le cose e per questo anche noi leggiamo la Pekhe Avot la settimana scorza in sabato abbiamo fatto il Pekhe Avot il primo Pekhe Avot qual è il primo Pekhe Avot? Moshe ha ricevuto la Torah di Sinae e che ha fatto con questo Torah lo ha dato a Yehoshua e Yehoshua lo ha dato agli anziani e gli anziani lo hanno dato alla grande assemblea e questa grande assemblea ha detto tre cose scusa io non ho capito la Torah fu data del creatore Moshe da Moshe a Yehoshua da Yehoshua gli anziani gli anziani e la grande assemblea la grande assemblea ha detto tre cose però scusa perché non mi racconta lo che hai detto Moshe Moshe anche hai detto tanto cosa perché non mi racconta lo che hai detto Yehoshua perché non mi racconta lo che hanno detto gli anziani no tu se lo mi vuoi raccontare diciamo il filo storico che la Torah fu dato da Moshe da Moshe a Yehoshua di Yehoshua gli anziani degli anziani e le grande assemblea e dopo mi racconti solo lo che racconta la grande assemblea però scusa forse lo che ha detto lo che vuole dire Moshe è più importante perché lui viene prima e dopo mi racconta un po' lo che ha detto Yehoshua e dopo mi racconta un po' lo che mi ha detto gli anziani e solo no che mi dice solo lo che dice la grande assemblea e la cosa più strana quale sono le tre cose che hanno detto a questa grande assemblea uno è Vumetunimbadi che vuol dire che Vumetunimbadi che Vumetunimbadi voglio dire quando tu giudica il tuo amico non essere veloce a giudicarlo piano piano pensa bene pensa bene prima di giudicare vedi bene tutti gli angoli della storia questo è il primo è Vumetunimbadi la seconda ammidutalmidimor beh ti vuol dire ammidutalmidimor beh hai tanti alunni non prendere un aluno non due alunni non insegnare solo a due o tre persone insegna tutto tutto sempre quando eri giovane quando sei anziano sempre tutta la vita continuare a insegnare ammidutalmidimor e qua la terza ma su si agla Torah dovete fare una siepe alla Torah e questo è una domanda che si deve chiedere questa è la saggezza della grande assemblea queste tre cose quando giudica non giudicare così essere con corzione e giudicare educate molte discepole e fate una siepe questa è la grande saggezza il primo Mishnah di Avot la Torah fu data a Moshe Moshe che ha detto non importa Joshua che ha detto non importa Zekinim che non importa la grande assemblea è importante quali sono le tre cose che hanno detto queste tre cose essere cautelo e nel giudizio bello sì è vero essere cautelo e nel giudizio è una cosa importante però con questo vogliamo iniziare Zedekim per capire questo dobbiamo capire un po' qual è la storia della grande assemblea chi è questa grande assemblea di quale epoca stiamo parlando Zedekim la grande assemblea stiamo parlando fino del primo Betta Migdash quando quasi arriviamo alla distruzione del primo tempio o se la grande assemblea è un'epoca che inizia alla fine del primo Betta Migdash tutti i 70 anni dell'esilio perché tra il primo Betta Migdash e il secondo Betta Migdash c'era un esilio di 70 anni dove eravamo in questi 70 anni Babilonio Persia la storia di Purim fra parentesi succedono in questi 70 anni e è l'inizio della costruzione del primo Betta Migdash questa è la grande assemblea chi conosciamo che era famoso di questa grande assemblea per esempio Mordechai noi sappiamo che Mordechai è iudì la storia famosa di Puri Mordechai lui era capo della grande assemblea questo è Mordechai chi conosciamo ancora Ezra Ezra è il sofer sappiamo che lui faceva anche parte Shimon ha Tzadik si può parlare tanto di Shimon ha Tzadik questo la mischina dopo perché la mischina biavot parla su questa grande assemblea qual è la storia Tzadik la grande assemblea ha vissuto un'epoca che era forza una delle epoche più difficili del popolo ebrae era una epoca dove sembrava che già non c'era speranza parliamo dopo la distruzione del primo Betta Migdash c'era un Betta Migdash c'erano profeti c'era il fuoco che scendeva del cielo c'erano tantissimi di miracoli c'era un collegamento forte al creatore un collegamento che non era nascosto un collegamento rivelato che qualsiasi bambino abbiamo già detto oggi quando il bambino chiede a suo padre padre dove sta il creatore il padre dice sta nel cielo forse che poi spiega un bambino di 4 anni di 6 anni antiguamente non era così tu vuoi sapere dove è il creatore vieni andiamo al Betta Migdash il bambino arrivava al Betta Migdash vedeva un fumo così che va diritto del Betta Migdash così al cielo dice ah papà questo è un miracolo ah sì ma è questo dove è il creatore ti faccio vedere iniziava a vedere sui figli tutti i miracoli che succedono lo che uno vede con gli occhi ha tanto più valori dello che uno ascolta nelle sue orecchie questo era il primo Betta Migdash era un'epoca che non possiamo neanche immaginare di che parliamo e di questa cosa sono dato una distruzione a un punto così debole che quando Koresh c'era Zarat Koresh anche in questo esilio in questi 70 anni quando Koresh ha detto all'ebrei sapete che potete ritornare andare a Gerusalemme e fare il Betta Migdash sai di chi immaginiamo che adesso qualcuno dice a noi il problema è così si viene annunziato domani tutti gli ebrei possono andare a Jerusalem e fare il Betta Migdash costruire il Tempio chi va a farlo? a tutti noi prendiamo il valigio andiamo che andiamo a fare qui a Zarat Koresh solo 42.000 ebrei sono ritornati a Gerusalemme per voler costruire il Betta Migdash possiamo capire di che assimilazione stiamo parlando se da tutto il popolo ebraico solo 42.000 sono pronti a ritornare alla terra di Israele per fare un Betta Migdash di che stiamo parlando? di che epoca stiamo parlando? si racconta su Israe sofferti quanto quanti decreti lui ha fatto solo per i matrimoni misti noi pensiamo che i matrimoni misti è nato oggi no no anche là il profetto racconta quanto i matrimoni misti c'erano in questa epoca la grande assemblea quanti cose grandi ha fatto la grande assemblea per esempio l'amidà noi ogni giorno facciamo l'amidà tre volte al giorno grazie a chi? chi l'ha stabilito? la grande assemblea le berachot che noi facciamo le benedizioni chi l'ha stabilito? la grande assemblea e adesso io ce l'ho una domanda se tu mi vuoi raccontare lo che ha detto questa grande assemblea raccontami un po' su di questo sull'amidà sulle berachot no che mi racconti? la grande assemblea ha detto tre cose essere cautela nel giudizio questo tutta la saggezza di Mordecai di Ezra della grande assemblea questa è la saggezza ridotta a questo punto di chi? è la prima Mishnah la grande assemblea non sta trasmettendo saggezza non è intelligenza non è conoscenza la grande assemblea sta dando le chiavi come fare un renaissance se dice in Francia una rivoluzione per rivivere un popolo che è distrutto per far rivivere un popolo che è distrutto c'è bisogno di queste tre cose è vero ci sono tante cose grandi che la Torah ha fatto ci sono tante cose che Moshe ha fatto che Joshua ha fatto che gli anziani hanno fatto anche là però no adesso ti voglio insegnare un'altra cosa come rivivere l'ebraismo quando l'ebraismo sta a casa e distrutto la prima cosa la prima chiave quando il popolo sta giù è la Torah noi sappiamo lei giudica la Torah c'è l'alachà nero bianco giusto o non giusto si fa così punizione così si fa così regalo così non c'è le cose sono molto chiare molto chiare uno mangia maiale e 40 frustrati uno maestri non fa Shabbat e viene lapidato non c'è discussione l'alachà è molto chiaro dicano ai maestri no no è vero che l'alachà è chiaro però quando abbiamo un popolo che sta giù quando abbiamo una distruzione quando abbiamo un esilio e vomitano non giudicare subito il tuo amico non subito pensare male su di lui poveraggio lui vive in un'epoca molto difficile che tu sai qual era l'educazione che lui ha ricevuto si forse lui si comporta non va bene ma non giudicarlo così veloce da dove viene chi ha vissuto che distruzione ha visto che cosa orrifica ha vissuto la grande assemblea è vero noi ebrei siamo addini a covetare il giudizio è stretto però questo in epoca di Moshe Rabenu di Joshua puoi fare così noi siamo un'altra epoca e vi metto un imbadin un po' un po' piano piano pensa bene tu vedi un ebreo e il fatto che è ebreo già è tutto ma al di là dell'uomo che lui si compro anche se lui non fa Shabbat ovvio Shabbat è importantissimo non c'è niente di parlare la fondazione dell'ebreismo è Shabbat senza Shabbat non c'è ebreismo però non importa giudicalo per il bene poi la seconda chiamo mi dottami di marbe e uno è collegato all'altro io dirai mi dottami di marbe c'è una epoca noi oggi pensiamo che fortunati possiamo studiare quanti rabbini danno lezioni a Youtube a Zoom quanti libri sono tradotti in italiano inglese francese c'era un'epoca nel proprio ebreico che non era così antiguamente l'entrata del posto di studio c'era un selector c'era una guardia un selector mai sia come c'è la discoteca l'entrata lui ti controlla sei degno a entrare o non sei degno a entrare se lui da dentro sta come sta fuori se lui da dentro non è come fuori non lo fanno entrare e studiare Torah non c'è non c'era ni Zoom ni Youtube ni niente se tu non eras un uomo degno non eras un uomo già molto avanzato non ti faceranno entrare il capo di Rabbi il figlio di Rabbi non faceva entrare la gente ma è severo è vero la qualità è importante la qualità perché tu puoi avere tanti all'unni puoi avere migliaia di all'unni però chi sa qual è la loro qualità di questi all'unni in una grande assemblea è vero questo era nell'epoca di Moshe Rabbenu nell'epoca di Joshua nell'epoca di Lanziani oggi a me tutta la mi di Marbe questo ebreo che ha un volere di studiare anche se è nero da dentro e da fuori fanno entrare questo l'ebraismo questo è come si fa quando c'è un esilio quando c'è un'assimilazione quando c'è una distruzione e qui viene il secondo nome il terzo punto che è molto importante perché i primi due punti senza il terzo punto possono portare a un ebraismo sbagliato chiamalo reformisti chiamalo come vogliano tanti nomi questi tipi di ebrei sbagliati assù sia glatora che vuol dire sia glatora è vero giudica tutti gli ebrei per bene è vero fai entrare dentro l'estudio tutti gli ebrei ma che poverà oggi è difficile oggi è difficile fare la cosa giusta però quando tu insegni la Torah tu la insegni a diritta non fai sconti non è po' che tu vieni da una famiglia difficile quindi per te basta che non lo so basta che non lavori puoi andare con la macchina mai sia no 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 noi siamo molto rilassi noi vogliamo tutti bene e vogliamo insegnare tutti però la Torah ha le sue la Torah deve essere insegnato in la sua completamento non fare sconti anzi chi sei tu per fare sconti chi sei tu per dire a un altro ebreo tu sai che basta che fai questo tutto l'altro è meno importante o che poveraccio tu vieni da una famiglia che era difficile no no è vero io sono pronto a capire io capisco la difficoltà di un ebreo che è lontano ma quando io le insegno le cose le insegno le cose esitis come sono come sono scritto come che fu insegnato a me così io insegnerò a te e questo tzedekin è il lavoro nostro noi dobbiamo aprire il cuore abbiamo il dovere abbiamo detto che docenti io dobbiamo essere santi dobbiamo abbiamo una avuta da vita abbiamo un obbligo attraverso i nostri fratelli ognuno di noi ha la sua zona dove può influenzare fratello madre zio amico vicino azienda negozio dobbiamo fare queste tre cose la prima cosa è non giudicare nessuno entra entra con amore secondo fa lo ha insegnato tutto che sai tre però non dire a tu stessa va bene che lo insegno questo lui non è capace fare questo lo insegno solo metà delle cose quando lo insegna lo hai fiducia che dentro il suo cuore lui vuole fare la cosa giusta dice l'agmara che nell'epoca quando un ebreo faceva una cosa cattiva a volte lo davano frustrate lo danno frustrate fino a che lui dice io voglio fare la cosa giusta tuo amico che è una bugia è ovvio che se tu dai frustrate a qualcuno lui vuole non ricevere le frustrate e dirà qualsiasi cosa che vuol dire tu lo dai frustrate fino a che lui dice voglio è una bugia ma se no non hai capito non è una bugia lui davvero vuole ha dentro l'anima non è un ebreo vuole fare la cosa giusta quale è la problema una bugia una cosa che non ti disturbo vuole non è frustrate non è per lui lui vuole è proprio questa cosa che stai da fuori diciamo ma è stai che dovessi ti ho che caduce io ho raccontato del valshem perché lo dice si deve capire bene dice io la chiam è lo che che io sono santi sapete perché perché voi siete santi al contrario si deve essere attento come dirlo come capirlo però sì io sono perché sono il vostro dio chissà quanto forza ognuno di noi ha ogni ebreo può spostare tutto può fare tutto il Mashiach può arrivare per uno basta uno che fa e nel momento giusto la cosa giusta al persona giusta e la storia è terminata Baruch Hashem la Geula è stata la scienza di chi iniziamo adesso il percorso lavoriamo arriviamo a Shavuot pronti come deve ricevere la Torah ci purifichiamo andiamo al cammino che abbiamo l'attitudine capire come dice il Ramban il Santo vero non è la mitzvah stesso è il concepto lo che sta dietro la perspettiva tua deve essere giusta Shabbat Shabbat Shalom Grazie a tutti.